ovviamente puntata su black for blood ve lo facciamo vedere in questa special edition estremamente bella estremamente compatta praticamente è ovviamente al suo interno contiene tutti tutta una serie di sbloccabili esclusivi proprio per questa edizione venduta a 70 euro e 98 non è l'unica edizione in cui è venduto black for blood abbiamo detto prima c'è anche una deluxe edition quella ultimate edition invece a 109 euro cos'altro abbiamo oggi per il nostro ricco ricchissimo momento unboxing o il nacon x naco revolution x pro controller ennesimo direi figlio della famiglia di controller pro di nacon su gamesall.it ne abbiamo recensiti parecchi nel corso degli anni sul sito di gamestop ovviamente ce n'è una mezza infinità per tutti i palati gusti questo è l'ultimo nato proprio verrà commercializzato a partire da oggi